Allora, Capitano Lovecchio, Fiorucci, Gallo, Mastro Giovanni, i vincitori dell'Aus, commenta la partita, la vittoria di questo torneo. È stato un torneo meritato, stra-meritato, che abbiamo nominato dall'inizio. Sta umile, dai! Con un portiere così... Ma dai, tutta la squadra, ci fa piacere giocare tutti insieme, siamo un bel gruppo di amici e con questo premio ce ne andremo a fare una bella serata tutti insieme. A parte di Simone! A parte di Simone! È stato un avvenimento che ringraziare... Se puoi inquadrare, vogliamo ringraziare Pino, Pino, Pino... Ragazzi, avete visto il nostro presidente! Un presidente! Un presidente! Un presidente! Se volete cambiare le gomme! Via Bari! 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 Via Bari!